salve ragazzi benvenuti nel canale alienology io sono ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di dago colore nuova di stampa numero 76 lo sfregiato eccolo qui questo dago che è arrivato con considerevole ritardo in edicola infatti io praticamente nel momento in cui sto registrando siamo lunedì 8 novembre 2021 l'ho preso sabato il 6 due giorni fa e mi sa che è arrivato in dico proprio per sé doveva uscire il 29 ottobre quindi una settimana piena di ritardo ma comunque vale averlo tra le mani ho appena finito di leggerlo insomma ve ne volevo parlare questo il mio secondo dago nuova di stampa visto che il primo è qui che ho letto è stato appunto il numero 75 il volto della morte che concludeva la trasferta di dago che ha appunto insomma la precedente trasferta invece questa qui inizia la trasferta diciamo di dago in a cuba la creazione di cuba ma insomma ragazzi questa è la copertina di vincenzo mercogliano con i colori di andrea vannozzi la copertina che mette in mostra appunto dago che praticamente innesta un duello con questo sfregiato questo personaggio lo sfondo è un color granata il logo giallo dago insomma una bella copertina forse ho preferito quella precedente ma anche questa diciamo poi fa capire quello che andremo a leggere in quarta di copertina c'è il prossimo numero numero 77 il colpitore e le donne che uscirà il 30 novembre ma su questo numero questo numero 76 della nuova ristampa colore dago c'è qualcosa di importante alla fine da aurea ai suoi lettori l'editoriale aurea che ci spiega che da prossimamente io presumo dal prossimo numero dago aumenterà come tutte le pubblicazioni dell'editoriale aurea aumenteranno non so ancora mi sa addirittura di 50 centesimi quindi questo 98 pagine a colori costava 3 euro e 90 dal prossimo numero dovrebbe costare 4 euro e 40 quindi come spiegato l'editoriale aurea ci saranno degli aumenti cioè ci parlano infatti della crisi della carta delle aumenti che ci sono state anche per quanto riguarda e noi lo sappiamo bene perché seguiamo i fumetti bonelli ci sono stati gli aumenti bonelli nel maggio scorso quindi dal prossimo mese presumo aumenteranno anche i fumetti dell'editoriale aurea e ovviamente ce lo spiegano qui ma io sono qui insomma per parlare di questa storia allora detto dalla copertina ovviamente qui l'ho sfregiato con sul numero 76 personaggio creato da robin wood la storia di robin wood con i disegni ovviamente di carlos gomez all'inizio c'è luca lorenzon che ci parla come precedente numero degli altri prodotti dell'america ci parla un po di come è nata il cacao come è arrivato il cacao in europa attraverso le americhe facendo come dire un parallelo con il tabacco di cui si era parlato nello scorso numero altri prodotti dell'america ci spiega come il cacao è arrivato in europa come lo chiamavano insomma come era chiamato in messico ad esempio nelle americhe e poi insomma tutte le evoluzioni del cacao che al momento attuale insomma nel mondo attuale siamo nel 2021 il cacao poi come è stata creata la cioccolata eccetera eccetera quindi questa è come sempre una rubrica molto interessante di luca lorenzon inizio albo che ci parla un po appunto delle risorse che sono che attualmente insomma sono ben radicate nella società moderna però ovviamente come sono state scoperte e create nell'arco del tempo allora come ben sapete dago si si suddivide in capitoli questa storia devo dire ragazzi ve lo dico subito mi è piaciuta molto perché praticamente fino a un certo punto insomma come accade spesso con le pubblicazioni di dago fino a pagina 74 praticamente la storia inizia a pagina 15 e termina a pagina 74 la storia che vediamo in cui vediamo appunto lo sfregiato che qui duella con dago dago insieme a gregorio lopez moreira il portoghese vanno da questo governatore spagnolo che si trova nei punti insomma dove poi sarà creata cuba cioè denervaes denervaes ha questa figlia di nome leonora e gregorio l'amico portoghese di dago si innamorerà di questa di questa ragazza di lì a poco entrerà in scena proprio questo personaggio molto come dire questo delinquente questo sfregiato che cercherà di come dire di praticamente di di ricattare denervaes che il governatore prendendo in ostaggio sua figlia leonora di lì a poco però sia dago che gregorio lopez moreira faranno di tutto per liberare la figlia e affronteranno proprio visto che c'è non vi spoilerò nulla e già si vede già in copertina dago e gregorio affronteranno appunto questo sfregiato questo delinquente che insomma prenderà in ostaggio leonora vorrà dei soldi in cambio dal governatore denervaes vi faccio vedere un po' i disegni ragazzi ma conosciamo bene i disegni di carlos gomez applicato a questi colori ragazzi posso dirvi già avevo detto nello scorso numero ragazzi sia la storia di rovin wood che i comunque i disegni molto belli da parte di carlos gomez io penso che questa nuova ristampa colore siano stati pensati questi fumetti essendo una ristampa sono stati pensati bianco e nero poi colorati e devo dire che questa pubblicazione secondo me una delle più belle sono ancora secondo numero c'è purtroppo non ho letto tutti i precedenti anche se cercherò di recuperarli spazio permettendo però posso dire allora che i disegni e colori sono spettacolari ma lo è lo stesso la storia ragazzi leggere dago è un'esperienza per quanto mi riguarda quasi mistica nel senso che è un fumetto molto diverso dagli altri che io leggo e spesso insomma ti fanno pensare io mi sono anche segnato una citazione a pagina 57 in cui gregorio dice a dago che praticamente dago gli dice sei così innamorato in questo caso di leonora qui e gregorio gli dice non fare domande alle quali non so rispondere la amo sì la gloria e la stupidità dell'amore l'amore ci trasforma in eroi e imbecilli in parti uguali questa storia mi ha colpito molto insomma c'è questa frase mi ha colpito molto insomma qui gregorio lopez moreira questo portoghese che si trova a cuba sarà appunto innamorato di questa leonora poi non vi dico come va a finire insomma se non l'avete mai letto però c'è un epilogo di questa storia che mi ha colpito molto mi ha anche un po emozionato ma del resto le letture di dago sono così cioè può sembrare un fumetto anche per dire in certi casi anche violento perché comunque c'è azione c'è anche un po di violenza però c'è sempre una morale c'è sempre c'è robin wood ragazzi è veramente un qualcosa di incredibile io che purtroppo lo sto conoscendo c'è purtroppo sto conoscendo solo da poco sto leggendo da pochi fumetti di dago i fumetti di questo grande artista che purtroppo ci ha lasciato pochissimo tempo fa è stato un grande è stato veramente un grande poi comunque vediamo anche i disegni di carlos gomez secondo me la coppia wood gomez io so che mi hanno detto che anche salinas ovviamente il disegnatore originale di dago era stato un grande ma secondo me io sto vedendo gomez e i suoi disegni davvero sono spettacolari insomma la storia si sviluppa tutto intorno a soprattutto a gregorio questo amico portoghese di dago e a questo personaggio lo sfregiato che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote e di fare il delinquente che è insomma dago come al solito sarà molto importante d'ausilio soprattutto per il suo amico gregorio per questa ragazza leonora il governatore de narvaes e poi ovviamente negli ultimi capitoli finali si andrà a iniziare praticamente quella che poi vedremo nel prossimo numero cioè il numero 77 il colpitore le donne la trasferta di dago a cuba che continuerà già nel finale insomma leggiamo quello che poi sarà nel prossimo numero io devo dire che è un numero questo numero 76 lo sfregiato che mi è piaciuto moltissimo inizia come detto la trasferta cubana del nostro dago con questi personaggi come anche gregorio lopez moreira che mi ha come dire molto sorpreso e mi è piaciuto molto come personaggio ma i personaggi in realtà i personaggi che sono all'interno delle storie di dago sono sempre abbastanza affascinanti e importanti devo dire ragazzi che è veramente una bella lettura come detto il prossimo numero sarà questo il colpitore le donne ovviamente spero di trovarlo qui dice il 30 novembre speriamo non subisca dei ritardi ma l'importante è leggerlo ci sarà l'aumento penso che costeranno 4 ore 40 ma ragazzi secondo me sono soldi sempre ben spesi per questo fumetto questo personaggio che davvero vale la pena leggere io lo consiglio a chi vuole insomma affacciarsi affacciarsi per la prima volta questo personaggio io stesso ho iniziato con la ristampa colori bimestrale e ora continuo con questo dago colore nuova ristampa mensile mi sto divertendo mi sta piacendo insomma ragazzi mi sta piacendo e continuerò senz'altro a leggerlo fatemi sapere nei commenti se avete comprato e letto questo nuovo numero di dago nuova ristampa se leggete dago da tempo o da poco insomma ragazzi io lo leggo da poco però mi sta piacendo e piano piano voglio sempre di più familiarizzare con questo fumetto e questo personaggio io vi ringrazio per aver visto il video vi ringrazio per il supporto che mi date sempre ragazzi lo dico sempre io vi ringrazio perché per me è importante avere il vostro supporto soprattutto commentate perché ovviamente risponderò ed è sempre un piacere grazie ancora e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi